ciao a tutti bentornati ad assassin's creed origins allora stiamo ancora spippolando diciamo nei pressi di alessandria volevo concludere questi due punti interrogativi intanto per conto mio mi sono sbloccata questo viaggio rapido e qui abbiamo completato tutto mi pare mi pare proprio dei sì vabbè poi sta zona ce la vedremo quando la sblocchiamo sì e niente quindi adesso ci spippoliamo questi due punti qui non so se riusciamo a scoprire anche questo se ci si può andare e poi andiamo finalmente ad alessandria a parlare con la moglie di bayek aia aia tanto ci prendiamo qua c'è un tesoro ci prendiamo questo tesoro vediamo chi c'è sa guardia adesso tesoro le prete il tesoro ce n'è uno serpenti che c'è ma pare che c'è niente e fido trappoloni figlio tutto qui c'è una pergamena offerta sekmet veglia su di me oggi parto per il viaggio che sogno da molto tempo vado a rivivere sì buonanotte ma non c'è mi sei singola ambroia vado a vivere tra le bestie più magnifiche che esistano migliorerò un branco di leoni in cima alla collina ovest possa la mia nuova famiglia essere sempre sotto la tua protezione questo è tutto scemo però vabbè scelte di vita e non spetta a noi giudicare bene ascia pesante attenzione vogliamo equipaggiare ma per il momento siamo bene così a me la spada mi piace mi mi gusta spada più delle armi pesanti devo dire la verità ok allora adesso vediamo un attimo volevo andare possiamo andare qui andiamo prima qui proviamo bravo bayek hai capito che notte ci fai luce molto intelligente amico allora andiamo sempre per di qua abbastanza distante spero che ci si possa arrivare o che dè non ce l'hai qua ah vuoi segui la strada vabbè vabbè sembrava distantissimo invece non lo è dai ci possiamo arrivare di sportiveggianza anche in tempi brevi ma possiamo fa sconcia tipo abbiamo andato in alto paretonio abbiamo scoperto paretonio me sa che questa è una tomba sarà una tomba non saprei ci stanno i cattivi non lo so eh sì eh sì dammi si dammi si dammi si dammi si allora attenzione facciamo così vediamo un po questo ci sta a seguì c'è un tesoro sì c'è un tesoro è un cattivo da ok ma questo niente di che bravo molto meglio aspetta che se riesca che a patte niente vabbè dammo senso tanto dobbiamo prendere il tesoro e uccide questo il capitano capitano mio capitano vediamo ma scondiglio della casa di sabbia qua è pieno di guardie ma neanche date se no però ce le devi eh ce le devi segnare tutte allora io andrei a far fuori prima questo qui che è di vedetta ma dove corrono tutti chi stai a parlare non so ma stanno andando via tutti ma perché corrono via non ho capito ma chi capisce bravo eh approfittiamo visto che è vero manco tu attenzione aia otto perfetto comandante a posto prendiamoci il tesoretto eppure questo luogo è fatto daie damose allora adesso noi ce ne andiamo bellamente ah qua c'è vedi oh porca puzzola affasciatissima però allora andiamo prima qua cosa no no niente aspetti un attimo aspetti un attimo hai fatto male a venire qui anche tu eh mi scusi eh lasci fare benissimo damose ciccio damose ok però dobbiamo andare in per di là per di là damose ah qua mi sa te lo dico io qua mi sa che ma che ce l'hanno con noi oh ma che ma no ma no ma come corri Bayek puoi correre per cortesia ti serve cito devo proseguire è uno di quei è la missione del figlio ah meno male mi sa che mi hanno abbandonato ah ma cos'è questa questo accadimento esagerati poi ok dobbiamo trovare questo segno allora vediamo un po' papà come si capisce se sei innamorato questo è qua perché Cam pensi di essere innamorato non lo so l'amore dovrebbe essere bello gli unici che amo siete tu e la mamma invece sto male a volte mi sembra tutto confuso sembra proprio amore potrebbe essere anche per me è stato così mi dispiace figlio mio ecco 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 dai stiamo mantenendo la promessa importante la promessa importante soprattutto perché è fatta un ragazzino bravo Bayek moddamosi però su dai su 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 io vorrei comprare un altro vestito a Bayek però quello che mi piace costa un po' troppo per il momento accumuliamo soldi niente la cavalca però ogni volta se ne va io boh vabbè allora adesso sediamo per di qua a sbloccare vediamo mazzo sta lontanissimo però aspetta allora però sta sta lontana pure quest'altro dove era ah no l'abbiamo fatto no allora facciamo che quello lo sblocchiamo poi e adesso ce ne andiamo qua dai col viaggio rapido eh sta troppo lontano lo sblocchiremo oppure me lo sblocco io per conto mio la sportivirgenza di Bayek non puoi cambiare il livello di difficoltà vabbè allora allora togliamo innanzitutto il punto se no mi rimane messo e non ecco ok ma no ok allora vediamo un po' ci vogliamo andare a sbloccare anche un altro punto di controllo o vogliamo andare ma facciamoci la missione principale va intanto intanto incontriamo Aya intanto incontriamo Aya va ma si pardon sbagliato ci vuoi andare con la cavalcatura perché non mi va a decamminare si non ho capito niente quello che hai detto ragazzi quindi va bene così se rapide il serpente avrà la sua risposta si allora adesso incontriamo tutti gli iscritti devono essere copiati per la grande biblioteca non l'avrai nascosto allora i lavori vediamo se seno trova il papiro nascosto eccolo là sono tutti qui dentro esatto e poi andiamo dalla moglie di Bayek ha delle idee interessanti molto estreme forse anche troppo balle divisa mi troverai in una gola vicino ad Antilla nel cuore del nomo di Sapme sono sotto un albero solitario che è separato dai suoi simili da un ponte di roccia va bene allora adesso andiamo sopra e incontriamo la moglie di Bayek la conoscenza di tutto il mondo è a portata di mano già qui possiamo riflettere sul governo dispotico per cui dobbiamo faticare i poeti Alessandrini ve ne ho parlato devo andare sotto un gruppo di artisti teatrali dediti alla diffusione del libero pensiero per ogni terra interagisci vediamo va bene sei rapide e adesso dov'è Aya? ah sei rapide ho scritto un'epopea pastorale tragicomica su di lui sei tu Bayek vero? Aya ti sta aspettando è al sicuro presto presto seguimi ok seguiamo mi spiace mio caro amico ma sembri piuttosto sbronzo questa biblioteca è solo per chi vuole studiare è qui nascosta chi sei? ah così ti piacciono i versi omerici eh prego di qua sono il cugino di Aya Fano ah si Fano lieto di incontrarti finalmente dimmi che succede ad Aya perché sei così cauto Gennadio ha mandato i suoi uomini a cercare in ogni casa spesso trascinano la gente in strada e la torturano per avere informazioni il governo funziona così ormai Gennadio un mostro il comandante di Alessandria sta rivoltando la città per trovarla dov'è nascosta? ho un amico molto potente Apollo d'oro di sicuro ne hai sentito parlare non direi lo conoscerai in ogni caso ha trovato un ottimo nascondiglio ad Aya dopo che si è messa nei guai ma cos'è successo? non mi hai risposto è una brutta faccenda politica ti spiegherà tutto lei tranquillo questo c'ha giusto un po' de belluria sulla schiena ma giusto un po' ehi ecco Fano pensa di essere un poeta un moderno Sofocle dovreste leggere il suo poema ode alla mia capretta ode alla mia capretta vabbè il monumento nasconde la strada per raggiungere Aya ok grazie Fano esplora il pozzo benissimo allora possiamo accendere anche un po' di fuochi proprio lì devi fidarti guardi fidarsi è bene non fidarsi è meglio eh glielo dico ma dobbiamo andare sopra insomma si damose fin si entra in nessuna parte volevo accendere il fuocherello ma non si può accendere quindi mi butto meglio te no perché questo non si butta lo so o so io che non mi ricordo come si fa il salto della fede è facile ok si è buttato zitti che si è buttato devo andare in perdi qua presumo cioè si è nascosta no bene di più attenzione perché se non mi ricordo mai qua ci stanno pure i serpenti cioè non in questa location proprio però diciamo che nel gioco ci dovrebbero stare pure i serpenti giusto qui non penso perché c'è Ania per cui non credo proprio a calma mi sei mancato se vede non dovremmo più stare lontani così a lungo ora siamo solo noi due senza che muo siamo di nuovo insieme noi due l'uno per l'altra ho novità ho novità cicatrici della giustizia ho colpito Medunamon con questa odio l'idea di fare cose simili ma sono grata che tu l'abbia fatto a dire il vero è stato piacevole mi è mancato il tuo tocco mi è mancato poterti toccare anche io ho ucciso a Teone l'ho seguito e ho trovato una maschera nella sua stanza quando è tornato l'ho costretto a indossarla e gli ho confeccato questo pugnale in mezzo agli occhi aia ma non sono stata attenta un'altra dei mascherati mi ha seguito fino a casa è stato più complicato ne manca solo uno poi sarà finita vabbè incontro Ott guarda qui l'ho presa da Teone a Pollodoro mi ha detto che è un papiro del consiglio reale vuol dire che il serpente è nella corte di Tolomeo come può Pollodoro conoscere tutto questo ha informatori ovunque grazie ai contatti con Cleopatra Cleopatra è stata dichiarata criminale da quel traditore del fratello sì vuole riprendersi il trono vuole vedere il serpente morto quanto noi e si fida di me mi ha dato questo per tagliargli la gola è una lama antica che ha ucciso il tiranno Cerse dispensa giustizia astuto andrò al palazzo e scoprirò chi utilizza il sigillo del serpente e mi affiderò a lei assassinia gennaio e il serpente benissimo abbiamo fatto anche il livello però io avevo visto qui qui va bene dobbiamo uccidere il serpente e gennaio ok appunti di aia fanno a ragione devo incontrare a pollo d'oro crede che a teone sia coinvolto devo entrare nelle sue stanze la maschera è uno di loro il suo sangue per il mio chemo ora devo nascondermi a pollo d'oro potrebbe aiutarmi mi ha fatto entrare nel covo posso fidarmi di lui quindi lei si fida di questo a pollo d'oro qui c'è un tesoro spada normale io la metterei prima di subito al posto di questa sicuramente allora dov'è? hmm questi li metterei ciuti e cli e cimbi questi qua aspetta aspetta allora questo la marrugginita no aspetta ci voglio mettere questi sono tutti uguali però no niente questi non li cambio questa la marrugginita cambio con questa perfetto e damosi no aspetta c'era una cosa che potevamo ecco lama celata dai aumenta il danno della lama celata assolutamente si assolutamente si benissimo qui ho aumentato anche la borsa degli attrezzi a posto allora penso che si potrebbero dare da qua no da dove? vede qua andiamo a uccidere questi due che facevano parte della complicola che hanno ucciso ma scusate ma è muoio da dove? ma no ci deve essere un'uscita no? scusate maia da dove si esce? c'è un'uscita un po' più comoda grazie ma non mi pare non si esce da nessuna parte davvero? ah aspetta aspetta cos'è questo? eh è l'uscita ciccio è l'uscita aspetta un po' oh attenzione c'è qualcosa quello quando c'è il molo davvero Fanno ti ha fatto passare per il pozzo ma ma proprio un cretino è un cretino allora vado tu riposate me la raccomando esci ma ma dico io quello ci ha fatto passare per il pozzo quando contro gli do due pizze eh c'era l'entrata molto ben nascosta bellissimo allora vediamo un po' mappa vediamo un po' stanno più o meno vicini vediamo vediamo prima da uno e poi dall'altro dobbiamo prendere la barchetta? sto dall'altra parte sì vabbè che se rapide in questa città pace e giustizia costano che pace e giustizia triunfino ai più ricchi in questa città pace e giustizia costano e così gli ho detto gli faccio allora quel gennaio non mi fa paura gli ho detto ho amici a corte che ne sapevo non sapevo niente ah ma dobbiamo andare proprio dall'altra parte vabbè famo così intanto abbiamo capito che gennaio sta sguinzagliando tutto il sguinzagliabile perché cerca no ma vai a chi volevo fare non si può fare mai niente di quello che uno decide di fare cioè volevo seguire i pali con le corde ma non si può non si può vabbè siamo arrivati lo stesso dai ma adesso vado in per di qua ma per perché fai questa cosa? perché? aspetta perché qui non so se sono amici o nemici? eh sono nemici allora però io devo andare più in per di là non mi serve qua dammi se qua vai oh oh qui le guardie non scherzano cosa? no sono più veloce io eccoti qua no non riuscirai a scappare idiota ma invece si non mi scapperai bastardo dobbiamo andare per di là vedi? allora saltiamo di qua vai che ce la fai? comunque è spettacolare posso dire è bellerrimo mazza che paesaggi allora dai che da qua fa masconce arriviamo prima detto detto non c'è non c'è becca nessuno speriamo olè siamo quasi arrivati obiettivo vicino ok adesso se qui insaliamo seno aspetta accovacciati allora lì ci sta un tesoro è ok guardie il nostro obiettivo è lì benissimo qui c'è un altro tesoro? qualcosa c'è qui c'è una guardia guardia attenzione un altro tesoro c'è qualche altra cosa un altro tesoro ancora con altre guardie attenzione altre guardie guardie comodissima guardia guardia mazza c'è un esercito qui tocca sta attenti eh vai che sennò altro tesoro guardia 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 pieno di gente vabbè allora cerchiamo per prima cosa allora visto che abbiamo due tesori qui io proverei a prendermeli proviamo a prenderceli allora quello ah c'è pure questo vedi vieni qua vieni ciccio vieni non salti è uguale per me è uguale vieni 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 ehi sito qua ole adesso cerchiamo di assassinare anche quest'altro qui ci facciamo la sieve e qui dobbiamo essere gaudi perché l'impulsività non paga secondo me paghiamo con la morte con la motte con la motte allora vediamo se quello viene qua aspetta un po' più qua ci dovrebbe venire via 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 viace 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 che ti sistemiamo subito proviamo a far fuori questo che è un po' questo è il bambacione è il bambacione venga bambacio figa perfetto ok allora qui mi pare che ci siamo giusto ci siamo uno dei tesori è qui acchiappamoselo subito oh oh va va aspetta abbiamo un nuovo arco 27 questo qua ah però però lo possiamo mettere al posto di questo vediamo un po' ecco qua la tuba tiltuba tiltuba benissimo allora qui non c'è altro mi pare allora uno l'abbiamo preso adesso potremmo andare a prenderci quello che sta dall'altra parte due gli altri due stanno dall'altra parte qui è un po' più complicatina un po' più complicatina vogliamo provare a passare in perdi qua prima di andare a uccidere via 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 c'è via ehi cosa la col bambacione funziona sempre ci casca sempre c'è pure questo che sei vabbè pensiamo a questo adesso vediamo ci arrivi fino a qua te regge via via a posto fuori due ora uno sta qua vabbè deprediamo tutto deprediamo tutto ma l'altro non stava qua ah eccola ma sta gente sta fuori vero si si sta fuori ok ole allora quello che non ci interessa cioè chi non ci non ci intralcia possiamo anche bellamente fare a meno di ucciderlo non è che si passa da qui no per andare da quello vero no eh ma forse si oh andiamo a provare un piccaccio no non ci vai più su si che ci vai dai ti insinui no non ti insinui eh no non ti insinui peccato non ti insinui vero vai ecco no 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 vabbè niente allora possiamo uscire da qualche parte qui senza stare a rifare è è della della si si della della di qua ok damosi su benissimo esci in per di qua allora attenzione vai e che però eh no 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 ti ho detto io stai attento niente di che ok niente di che niente di che sei accorto del compagno motto ecco vai vicino così io ti darei la stoccatina sulla 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 cavessa sulla cavessa a posto vuole questo io direi facciamo fuori vuole questo si eh non te fidi affatto ma te ne vai ma è scemo questo ok ma dov'è ma dov'è chi è ah lost ma quanti sono ma vengono tutti qua cosa avete finito ma dai si può ripiglio un po' di frecce mi piglio quello che mi avete lasciato bellamente grazie otto gentili otto gentili e mosse dama in perdi qua ci hanno addirittura le catapulte questi c'è qualcun altro ah no siamo pieni vediamo di attenzione sta venendo verso di noi una guardia stava venendo verso di noi una guardia posso entrare da qualche parte perché sta qua dentro oh chi è ma questo da dove è uscito fatti vedere forza sto qui sto qui sto qui sono qua venga 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 avanti mi consenta venga avanti venga t'hai visto eh non riesco perché cammina poi paura di dare l'allarme non mi va e da dove posso entrare scendo giù in perdi qua vediamo come la situation si entra da qua attenzione allora lui sta sopra benissimo ma sopra però come ci si arriva c'è una scala l'entrata di qua eccola attenzione Bayek attenzione con calma circospezione non vedo guardie tu le vedi Bayek ah non c'è nessuno aspetta la manda a prendere questa roba ho raddoppiato i miei sforzi per trovare e punire il criminale che lavora per il creopatra dal presidio di Acra condurrò dei rastrellamenti nel distretto ebraico dove il sospetto si nasconda trionferemo Gennadio T'abbia Cis T'abbia Cis vabbè vediamo qua ringrazio la zona d'indagine vediamo una scala una scala qua pergamerate lo scriba dello scriba reale il regno di romeo teo negli animali negli animali negli annali dello scriba reale ok qua oggetto necessario e dai sembra importante ah devo trovare un oggetto ok e quindi mi serve ah sta qua sta qua la chiave no questa è la pergamena serve un oggetto eccolo là l'oggetto eh no eccolo qua l'oggetto come ci arrivo da qua dalla statua ok possiamo aprire lo scrigno vai documenti ufficiali la cassa appartiene allo scriba reale in persona eudoro un doppio fondo una lettera esimio ibis il faraone continua ad ascoltarci e rimane la nostra marionetta fai molta attenzione a siua l'uccisione dell'aerone è stata solo la prima altri due di noi qui ad alessandria sono stati uccisi comunque la situazione è sotto controllo gennadio sta interrogando la popolazione apprezziamo i tuoi sforzi ibis lunga vita c'è il sigillo del serpente il serpente eudoro lo scriba reale ok quindi il serpente quindi si dove muoviamo porca buzza che segretino no la cretina sono io però vabbè allora possiamo fare il viaggio rapido da qua così tanto per no eh aspetta vediamo un po' vediamo un po' sì così così almeno non c'è pericolo che ci vede nessuno tanti tesori li abbiamo presi allora raggiungi le terme siamo proprio qui va là eudoro frequenta le terme vediamo un po' ah dobbiamo passare dall'entrata principale beh non capisco cosa dice mi scusi bene allora assassino eudoro eccolo là dunque ma vabbè qui non ci sono guardie per cui idioti aristone ha denunciato eudoro accusandolo di plagio no mi trovavo al mole l'ho sentito dalla moglie di aristone e in persone cavalli sua moglie sta solo cercando di attirare l'attenzione sta solo vale tutto il viaggio guarda che soffitto immenso semplicemente divino ma io posso andare sopra perché perché mi sa che qua non mi fanno entrare se io vado sopra posso andare dall'altra parte sì allora facciamo così non insospettiamo le guardie facciamo il giro lungo avrei avuto che bello che bello però io non poterò come si avesse fuori un povero in genere simone è tutto di vostro gradimento signore ok che incompetente ma se fossi sobrio il nostro faraone sarebbe meno ridicolo ma chi se ne frega è vero e adesso noi posso darvi una mano forse no ci pensiamo noi ti hai visto ma è lui sì sì ma ma come hai potuto scusami muori e facciamola finita gli dei ti maledicano per quale motivo vuoi uccidermi hai ucciso mio figlio di fronte ai miei occhi tu sei un pazzo al tempio di Seewa quello schifoso buco di merda io non ho nulla a che fare con quella storia è tardi per mentire Anubi attende prezzo da pagare per uccidere il serpente il serpente il serpente non morirà mai figlio di Apopi il signore della Duatta ti attende bene ci siamo tolti in mezzo al serpente dai Eudoro adesso devo andare via da qua e direi che risalgo su Eudoro è morto per tutti gli dei è stato ucciso ma guardate quanto sangue ma era così bello ma come guardi però stanno ancora là si sono accorte di niente aspetta aspetta che forse si sono accorte no ti ammazzo no no che non ho niente aspetti oh no oh no abbiamo fatto una cappellata non ce la fai più no ce la faccio non la faccio perché no si preoccupi che io in qualche modo me la cavo idiota no 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 porca puzza sono affasciatissima ti ammazzo no sei lì non lo facci non lo facci non lo facci mi serve una mano forza ah ma scusa ma posso fare come ho fatto prima fare il viaggio rapido no no devo far scappare da qua ti taglio la gola no abbandona il conflitto te saluto core eccoti qua andiamo su andiamo su andiamo su andiamo su vai 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 dai vai che dai ho capito non deve sfuggirci ma io devo andare via da qua eh allora stanno a salire su io posso rifare il giro da quest'altra parte se ci riesco se ci riesco se ci riesco non ne vedono no porca la vedo un po' complicata complicata eh infatti sono stata una cogliona sono stata veramente una cogliona posso dire forse devo aspettare un attimo che forse qua non ci arrivano se ne vanno la smettono di cercarmi vediamo che inutile continua a fare il il giri in girello questo sta a venire qua questo sta a venire qua falloro ma vai ok almeno questo ce lo usiamo ad otto di mezzo questi continuano a fasso e giù se ne vanno riproviamo se non ci vedono la siamo fatta dai dolore se ne compiuta perfetto fine del serpente abiti per andare ai bagni pubblici praticamente benissimo allora io direi che per oggi ci possiamo fermare qui abbiamo ucciso un altro degli obiettivi di Bayek quindi un altro dei complici dell'assassinio di del fio di Bayek per cui niente proseguiremo da qui io se riesco magari che ne so mi mi pulisco un po' la mappa per conto mio se riesco se no ce lo facciamo insieme quindi un saluto a tutti da me e da Bayek e ci sentiamo al prossimo episodio ciao a tutti che si Levantemi di mezzo!